Il mio compito oggi è brevemente di illustrare com'è che siamo arrivati al quinto volume di un'avventura che all'inizio nessuno di noi pensava che ce l'avremmo fatta. Anticipo subito che in questa avventura il contributo della Casa Elettrice EGAF è stato determinante perché ci ha dato una disponibilità e una possibilità di lavoro sempre positivo e senza nessuna critica. E come chi lavora in questo settore sa avere la possibilità di avere un referente editore che sia disponibile a sopportare i nevrotici atteggiamenti dei professori universitari è un importante passo avanti. La Collana ha un comitato scientifico di cui il professor Corona è il direttore. Come nasce? Infatti diciamo fra noi, con un po' di mio orgoglio, ci definiamo Gruppo Venezia. Perché ci definiamo Gruppo Venezia? Io forse, come qualcuno di voi può sentire dal mio modo di parlare, non sono esattamente veneziano. Però sono 15 anni che insegno all'Istituto, diciamo alla Facoltà di Architettura di Venezia. Ingegneria dei trasporti, questo è un ambito abbastanza interessante perché riuscire a insegnare l'ingegneria dei trasporti agli allievi architetti richiede un modo diverso, un approccio diverso all'insegnamento. Stimolante fra l'altro. Io mi trasferì a Venezia nel 2000 e a partire dal 2003, eravamo prima della grande crisi del 2007-2008, quindi avevamo più risorse, c'erano più disponibilità di collaborazione da parte dei giovani, eccetera. Decidemmo di promuovere una serie di convegni nell'ambito della ricerca e dell'applicazione operativa ai problemi dei trasporti, non solo nel Veneto ma in generale in Italia. Il primo convegno, in realtà, lo facciamo a Roma nel 2003, riguardava il trasporto merci intermodale e ferroviario. Potremmo dire che siamo stati i primi che abbiamo posto questo problema in maniera evidente e complessiva. Adesso, oggi, che il trasporto merci ferroviario sia una strategia del Paese, lo dicono tutti, e siccome se c'è una frase antipatica da dire è quella di dire «ah, ma io ve l'avevo già detto», perché tanto non serve a niente, la storia non è che cambia, perché uno affermi una primogenitura, poi le primogeniture ce l'hanno tutti, insomma, è difficile rivendicarlo. Ma nell'ambito di questi convegni, nel 2005, un gruppo di, guardate, prima di tutto di amici e poi di professori universitari di ingegneria dei trasporti, deciso di approfittiamo che siamo tutti a Venezia e discutiamo un po' fra noi. I promotori di questo incontro, al di là che io ero l'ospite essendo a Venezia, furono il professor Borgia e il professor Corona. In queste riunioni si prese atto di tre fenomeni, tre fatti. Il primo, che è la disciplina dei trasporti, che noi che ci occupiamo di questo per professione identifichiamo in maniera abbastanza chiara, in realtà all'esterno chiara non è. A molti di noi a volte capita, anche quando si va a cena con amici, ma tu di che ti occupi? Se uno dice «mi occupo dei trasporti», lo sguardo è immediatamente interessato, perché pensano che uno abbia camion. Dice «ah, tu fai il trasportatore», cioè, guardandomi in faccia, non pensano che possa guidare un camion, però immaginano che abbia un'azienda. Dice «no, allora lavori nelle aziende di trasporto, lavori nelle ferrovie?» Dice «no, io mi occupo della programmazione e gestione dell'insieme della mobilità». A quel punto mi guardano, con aria di benevola sufficienza, dicendo «vabbè, non abbiamo capito, ma non fa niente». I più cattivi dicono «ah, allora quando noi siamo in coda per due ore sul raccordo a trovare è colpa tua». Ecco, diciamo, gli atteggiamenti sono di questo tipo. Io la sto un po' banalizzando, però certamente c'è un problema di identificazione, di identità delle attività che svolgono in Italia a coloro che si occupano di mobilità e trasporti. La seconda importante questione è che mentre, e qui in particolare Boggia e Corona ne erano i portatori, mentre negli anni 50 e 60 i trasporti erano sostanzialmente le ferrovie, trasporti nasce a Roma come filiazione e relazione di ingegneria meccanica e dell'ingegneria ferroviaria, che è una tradizione che fra l'altro a Roma è rimasta fortissima, è a partire dagli anni 60 che si introducono i problemi dell'ingegneria del traffico, della mobilità privata, eccetera, e che quindi man mano si arriva agli studi sulla domanda, quindi si arriva alla sociologia, cioè nascono tutta una serie di relazioni, che sono quelle qui segnate, economia, sociologia, urbanistica, ambiente, quant'altro, che man mano sono andati a rappresentare una specie di corollario integrato, una disciplina integrata, e su queste integrazioni, ma qui c'è chiaramente l'arroganza accademica di chi si occupa di ingegneria e di trasporti, noi abbiamo fatto la vautazione, noi, fa virgolette noi, che noi mantenevamo però una capacità di sintesi dell'insieme di queste componenti, conoscevamo la parte meccanica, conoscevamo la parte infrastrutturale, strade, ferrovie, aeroporti, conoscevamo la progettazione di sistema, eravamo in grado di fare gli studi integrati e quant'altro. È chiaro che è una posizione, è un'autocertificazione, ma oggi le autocertificazioni sono di moda. L'altra cosa che noi queste riunioni fatte a Venezia aggiungemo come conclusione, sì, va bene, noi siamo bravi, abbiamo un'antica tradizione, siamo in grado di relazionarci con economisti, sociologi, urbanisti, strutturisti e quant'altro, ma tutto questo dove si vede mancano dei testi di riferimento. Guardate, ci sono centinaia di migliaia di pubblicazioni scientifiche o divulgative che riguardano le infrastrutture e il progetto dei sistemi dei trasporti, la pianificazione e l'economia, ma avere un testo di riferimento, io dico borderline, sulla frontiera della ricerca, cioè senza essere un testo rivolto ai pochi o tanti ricercatori che nel mondo si occupano di progettazione e pianificazione dei trasporti, ma ovviamente arrivando fino a quello che io chiamo la ricerca consolidata, cioè quella che ormai ha prodotto dei risultati che sono applicabili. E quindi, unendo la carenza di riferimenti bibliografici completi, ha anche una, come dire, nostra debolezza come corpo, come settore scientifico disceminare, abbiamo detto, perché non proviamo a fare una collana? Anzi, non abbiamo detto. Borgia e Corona hanno detto, facciamo una collana in ingegneria dei trasporti, che poi l'abbiamo chiamata ingegneria dei trasporti nel tempo, ma ovviamente partiva così. Come diceva il professor Corona, man mano la cosa è cresciuta, praticamente circa 200 persone hanno lavorato all'estesura dei volumi che sono stati già pubblicati dalla EGAF di Forlì, con una serie di, ovviamente, referenti, promotori e quant'altro. Ho già detto, ma lo ritrovate scritto qui in fondo in rosso, l'opportunità che ci è stata fornita anche come relazione che aveva il professor Giulio Maternini, ma anche il professor Bruno Della Chiara, con la casa editrice EGAF, il problema che ci siamo posti è, sì, noi scriviamo, il nostro mestiere è scrivere, ma poi chi pubblica? Anzi, posso dire meglio, ma poi chi paga? E allora Maternini e Della Chiara hanno detto, ma c'è la casa editrice EGAF, che in genere è economica, adesso voglio essere molto... E quindi proviamo a parlare con il dottor Bandini per darci che siano interessati e disponibili a darci una mano. E devo dire che abbiamo trovato una disponibilità totale. Cosa abbiamo fatto fino adesso? Cinque volumi sono già pubblicati, fra l'altro è da sottolineare, tra il 2013 e il dicembre 2015 onestamente non avrei mai pensato che ci saremmo riusciti. Adesso poi vi farò vedere anche questi volumi come sono composti, non stiamo parlando di volumetti da 50 pagine, quindi diciamo l'ordine di grandezza sono... cioè quelli piccoli sono di 500 pagine, poi quello sul trasporto pubblico locale sono mille, che non è facilissimo leggere, però se li vediamo come dei manuali a cui andare a cercare le cose che ci interessano di volta in volta, invece sono dei comuni. Quindi, come dire, comporre testi di questa dimensione non è un'operazione banale. Siamo partiti con gli Intelligent Transport System, poi i trasporti ferroviari, i trasporti a città, il trasporto pubblico locale che oggi presentiamo, il sistema di trasporto intermodale che è uscito quasi in contemporanea con il trasporto pubblico locale, uno a novembre e uno a dicembre. In corso di stampa, questa la cito perché l'autore sono io e quindi ovviamente sempre per il principio che vi dicevo nell'autoreferenzialità dei professori universitari, c'è questo volume sulla programmazione, organizzazione e legislazione dei trasporti in Italia che trae spunto da un importantissimo master che coordina l'Università di Roma in Ingegneria dei Sistemi Ferroviari, di cui io sono coordinatore di un modulo insieme all'ingegner Gaggiulo e abbiamo, che attualmente è il presidente dell'Agenzia Nazionale sulla Sicurezza Ferroviaria, abbiamo deciso di dire ma le nostre elezioni perché non le trasformiamo in un volumetto? Si chiama volumamente una monografia perché mentre la media degli altri va dalle 500 alle 800 pagine, questo non lo so, ma credo che se raggiunge le 200, 150 è un grande successo. Si stanno preparando tutta una serie di altri volumi, parte già citata dal professor Corona che potete leggere nella slide, come vedete man mano si va a comporre anche qui tra virgolette con modestia una specie di opera omnia in cui in questa collana uno dovrebbe trovare le risposte agli specifici problemi dei diversi sistemi di trasporto che operano nel nostro paese, in Europa e quant'altro e qui si va su energia, trasporto aereo, sicurezza, trasporti parittimi, trasporti all'economia che dovrei curare io e trasporti all'ambiente di cui riprenderò le cose. Quelli che abbiamo fatto, il primo ho detto nel marzo 2013, stato curato dal professor Dallacchiara, questo è uno di quei testi borderline sulla ricerca perché parla dell'innovazione nel campo dei trasporti ed è il primo che siamo riusciti con una certa rapidità a produrre. Il secondo curato dal professor Ricci è un volume di solo 544 vargine che è la sintesi di tutti gli aspetti di base teorici, operativi e di progettazione dell'ingegneria ferroviaria. Come citavo prima, Roma è tuttora la depositaria delle ricerche dell'ingegneria ferroviaria in Italia, non me ne vogliono gli altri colleghi di altre università, ma la tradizione nasce lì, basta pensare a quelli che sono i nomi dei professori che era il professor Corazza, a parte il professor Borgia, ma il professor Corazza, prima di Corazza c'era anche, adesso non mi ricordo il nome, ma insomma le Uzi, De Falco, tutte persone che sulla trazione elettrica, sulla meccanica della locomozione, sulla progettazione ferroviaria hanno costruito una scuola e le scuole quando sono solide continuano ad andare avanti e rimangono gli eredi, continuano a portarle avanti. Qui abbiamo Trasporti e città, termine molto, anche questo è un volume che ha richiesto molta fatica, perché voi capite che il titolo, la denominazione Trasporti e città comprende tutto, perché poi città che cos'è? Se volessi citare uno dei miei amici recentemente scomparso, il professor Secchi, la città è tutto, il sistema, ma anche a partire dalle ricerche fatte sul sistema padano, c'è chi afferma, da Madardini padre al professor Busi più recentemente, che tutto il sistema padano in realtà è un grande sistema urbano di circa 40 milioni, 35 milioni o 30 milioni di abitanti. Quindi è un volume che affronta tantissimi aspetti, che cerca di vedere rispetto alla struttura della città, come il trasporto si relaziona l'uno con l'altro. Trasporto pubblico locale non dico niente, nel senso che è l'oggetto della legna di oggi, quindi ci sarà poi fra poco la illustrazione di questo volume, e in quasi in contemporanea subito dopo è uscito anche un aggiornamento di un volume che aveva già redatto il professor della Chiara dalla Chiara di Torino che riguarda i sistemi di trasporto intermodale, quindi l'intermodalità io lo definirei così, l'intermodalità vista da tutti i diversi sistemi di trasporto, quindi lo posso vedere dal trasporto marittimo, dal trasporto ferroviario, dal trasporto stradale e dal trasporto aereo. In certi versi è un'inversione rispetto al concetto dell'intermodalità in generale, cioè i nodi di interscambio, non è questo, è come diversi modi si relazionano in questa direzione. Questo è quello che dovrebbe essere, non so, perché non ho fatto ancora in tempo a parlare con il dottor Bandini, ma praticamente in fase di stampa, questo come vi dicevo è una monografia perché non ha l'ardire o l'ambizione di chiudere alla discussione sul problema della legislazione del settore dei trasporti. Infatti il sottotitolo diventa più importante perché cenni storici con alcuni commenti, cioè alcuni aspetti della programmazione, organizzazione e legislazione dei trasporti dagli anni 50 ad oggi estratti per commentarli e interpretare la situazione di oggi. L'ambizione è ovviamente questa. tra i volumi in fase di edizione cito solo questo perché mi permette di chiudere questo mio intervento facendo un riferimento importante a uno degli ideatori di questa collana il professor Borgia è trasporti di ambiente di cui il responsabile non mi ricordo se era un responsabile volontario o era stato responsabilizzato da autorità ma di fatto è il professor Ricci. Perché richiamo il professor Borgia? Perché nel primi anni 90 adesso quando c'era il progetto finalizzato trasporti 2 quando ancora l'università era finanziata per fare ricerca oggi l'università è finanziata solo per pagare i nostri stipendi di cui ovviamente sono contento ma per la ricerca uno si trova a fondi da qualche parte oppure praticamente i fondi universitari non sono più in grado di coprire neanche la ricerca di base la ricerca fondamentale parlando del trasporto pubblico sicuramente oggi si parlerà della riduzione delle risorse attribuite al trasporto pubblico si è passati da 7 miliardi a 4 miliardi e 8 come fondo nazionale trasporti l'università sta nella stessa situazione nel 2007 le università italiane erano finanziate per circa 7 miliardi e mezzo e oggi siamo a 5 miliardi e mezzo se ci togliamo tutte le questo è il il rettore del Politecnico che sa certamente molto meglio di me ma se ci togliamo i pagamenti degli stipendi che ovviamente diminuiscono perché con il blocco del turnover non siamo in grado di adesso non voglio dire di sostituir autosostituirci praticamente io e il professor Festa che fra poco parlerà non dico che siamo fra i professori giovani dell'università italiana ma insomma siamo ancora fra quelli quasi fra gli ultimi che sono entrati all'università il che visto che fra 4 anni vado in pensione mi fa capire che la situazione dell'università italiana è in una grave crisi ma non che il sottofinanziamento in qualche caso può essere anche una razionalizzazione della spesa ma quando io blocco il turnover dei ricercatori alla fine si muore per inedia nel senso che si muore per incapacità di continuare di continuare a produrre negli anni 90 fu finanziato un grande progetto di ricerca dal CNR progetto finalizzato trasporti chiamato PFT2 perché ce n'era già stato un altro precedentemente all'interno di questo grande progetto di ricerca al professor Borgia fu dato il compito di insieme al ministero dell'ambiente che era stato da poco costituito di coordinare le attività di ricerca insieme a un importante gruppo anche numeroso di ricerca sugli studi di impatto ambientale nel settore dei trasporti oggi questo può sembrare banale studi di impatto ambientale perché sono passati 25 anni ma nel 1990 il ministero dell'ambiente costituito due anni prima i studi di impatto ambientale nascevano in quel momento come prima esigenza uno sci del dpcm dell'88 sulle procedure di impatto ambientale mi ricordo fu anche un periodo molto interessante dal punto di vista dell'elaborazione di come affrontare diversi problemi il genio Borgia si prese quindi il compito più difficile perché è una cosa a fare ricerca sull'ingegneria ferroviaria sulle strade sulla mobilità urbana dove c'è anche a livello internazionale c'era una base consolidata è una cosa affrontare un tema fra l'altro con soggetti nuovi tipo quelli del ministero dell'ambiente di definire come dovessero essere affrontati gli studi di impatto ambientale delle infrastrutture delle infrastrutture e dei trasporti sul Borgia molti di noi alcuni di noi molti di noi assolutamente lo conoscono coloro che sono docenti e ricercatori del settore dell'ingegneria e dei trasporti lo conoscono tutti bene molti di noi gli devono una parte della loro carriera gli devono i consigli che lui ci ha sempre dato in tutti gli aspetti che riguardavano la ricerca universitaria l'attività didattica ma a volte anche i comportamenti da tenere l'eleganza dei comportamenti da tenere è qui presente fra l'altro oggi è venuto il figlio Edilio che mi posso permettere di dire che ha una grande somiglianza con il padre che è lì con il suo con il suo MEC che sapendo che oggi trattavamo questi temi essendo anche interessato al tema del trasporto il trasporto pubblico ha ritenuto interessante e importante per lui e per noi essere presente è difficile sintetizzare i rapporti con le persone e trasmettere le emozioni che queste persone ti hanno dato se uno le ha conosciute le sa percepire altrimenti devo dire che il professor Borgia è stato quello che ha governato non solo pezzi importanti dell'università di Roma per un certo numero di anni ma è stato anche responsabile di importantissimi progetti di trasporti in Italia e all'estero coordinatore uno dei coordinatori del primo progetto finalizzato no del primo piano generale dei trasporti degli anni 80 il curriculum è troppo lungo per descriverlo a me piace di più per l'affetto vorrei dire lui mi ha preso bambino per mano e mi ha portato avanti in tutta la mia carriera universitaria ma anche dal punto di vista umano cioè del come si dovrebbe essere o deve essere un professore universitario indipendentemente dai trasporti nel rapporto con gli studenti nel rapporto con gli altri nella capacità di sintesi nella capacità di ascoltare quindi è stato un insegnamento che per chi l'ha conosciuto è una cosa molto importante per tutti gli altri è una storia che praticamente copre 50 anni della realtà economica e trasportistica d'Italia dai progetti della Salerno Reggio Calabria con il professor Ruiz e il professor Adorisio fino ai grandi piani di trasporti ai grandi studi di fattibilità il professor Corona si ricorderà lo studio della dorsale di potenziamento della dorsale sarda 1990 di cui ancora oggi si discute dove con l'aiuto della società Sotecni si proponeva invece che potenziare la linea di inserire il pendolino che avrebbe riproduzionato i trasporti della Sardegna senza dove spendere all'epoca si parlava di migliaia di miliardi di lire anche nell'attività professionale nell'attività applicativa bisogna avere innovazione e coraggio è più facile dire facciamo una nuova linea ferroviaria e crea anche molto più consenso perché si lavora girano soldi arrivano finanziamenti avere il coraggio di dire no facciamo una cosa che ci permette di risolvere il problema della mobilità ferroviaria in Sardegna in pochi anni non in decenni ovviamente poi è cambiato l'assessore è cambiata la giunta regionale e la cosa è finita così chiudo quindi con questa immagine che è un messaggio soprattutto per quelli che hanno conosciuto Eugenio Borgia e che hanno conosciuto il gruppo romano perché ho cercato questa immagine questa è una fotografia che è stata fatta il giorno in cui Edilio Borgia si è sposato festa di matrimonio fra l'altro bellissimo con una moglie splendida e questa immagine Eugenio Borgia è al centro c'è una cosa per indicare il mouse insomma comunque lo vedete ah c'è il puntatore Lasi il professor Borgia è questo questo è il figlio questo sono indegnamente io e poi il professor Corazza il professor Malavasi la moglie del professor Borgia e le altre mogli perché questa foto e poi chiudo perché quella faccia di Eugenio Borgia quel volto quel sorriso soddisfatto è quello che ha permesso a tantissimi di noi di affrontare le difficoltà serenamente cioè da una parte la sicurezza dell'esperienza e dall'altra la disponibilità alla comprensione mi è sembrato è chiaro che quello era il momento in cui era felice perché il figlio si sposava ma guardate quella faccia ci ha guidato tantissimi di noi in moltissimi momenti in cui io certamente guardo negli occhi che abbiate Palavasi che è stata una persona che negli ultimi anni della vita ancora più di me gli è stato vicino perché era a Roma quando io ero a Venezia ci ha permesso di appunto poi lavorare affrontare la realtà le difficoltà volte gli errori che si fanno nell'attività nell'attività di studio e ricerca perché è anche professionale non è che non si sbaglia mai e allora avere quella sicurezza di una persona che ti poteva come dire riconoscere gli errori dirti come risolverli e affrontarli devo dire che in 40 anni che ho avuto modo di lavorare con lui non sono stato mai sgridato pure quando io avevo 28 anni e lui ce ne aveva già ce ne aveva già più di 40 eppure mi ha sempre corretto allora questo atteggiamento correggere aiutare nelle difficoltà ma non colpevolizzare è quella caratteristica del professor Boggia che io spero indegnamente un po' di aver acquisito sicuramente anche il professor Malavassi ma il professor Festa è un'altra delle persone che ha avuto con lui un rapporto per numerosissimi anni e Gianni Corona era uno dei suoi bracci di lavoro e di riflessione vi ringrazio e auguro buon lavoro a tutti per questa giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti